Si sblocca l'impasse della ricostruzione aquilana con le prime firme sui salle del dirigente Giovanni Francesco Lucarelli, nominato titolare ad interim dei due uffici speciali sino al 31 gennaio, sino a quando cioè arriveranno le nuove nomine di titolari effettivi. Due uffici che hanno però esigenze differenti. In alcuni comuni del catere si registrano le criticità più grande. Le imprese hanno avuto un affanno notevole generato dal blocco dell'attività amministrativa. Lucarelli però da lunedì è già al lavoro. Per prima cosa le realtà di cui io mi devo occupare sono due realtà distinte, perché USRA e USRC hanno ambiti di competenza non sovrapponibili tra di loro. Le estensioni territoriale sono diverse, quindi i problemi hanno una loro specificità. Quindi bisogna disaggregare comunque quello che posso fare in USRA e quello che posso fare in USRC. Dal mio punto di vista la situazione che richiede maggiore priorità è quella di Fossa e del territorio controllato da USRC. Tant'è che io in questi giorni sono più presente negli uffici di Fossa che in quelli dell'Aquila. Tra l'altro ritengo che sia importante essere presente, seguire in presa diretta i processi e non limitarmi solo a farmi portare le carte per la firma. Quindi io cercherò di essere qui presente, di capire, di parlare. Ho già cominciato ad attivare una serie di interlocuzioni con diversi sindaci. Ho trovato disponibilità alla collaborazione, un ambiente favorevole. Finora le prime impressioni sono impressioni di segno positivo.